qualcuno a salvarmi arriva, intanto io mi bevo un bel tè caldo che non si sa mai senza benzina senza benzina che cazzo ne so l'ho riempita l'altra volta che dovevamo uscire o figaro è vuota ma che mi son fatto seduto con la moto parcheggiata la moto era là in mezzo al fiume se mi faccio male sei fuori vuota è senza benzina ma l'ho riempita domenica dovevamo uscire figaro come cazzo fa a essere vuota ma domenica dovevamo uscire l'ho riempita e non l'ho più usata o sono andati giù in garage a usarmela senza dirlo e me l'ha accesa i nipotini se la sono bevuta ma tu si è spenta proprio dove lì in mezzo in mezzo poi l'ho riusata fino a qua poi mi sono stancato e no tu c'è miscela perché non gli fa un cazzo per andare fino a là anzi infatti ho gridato aiuto aiuto c'era spampi dietro è andato al manettone c'era lui e ce li faccio ma lo zaino c'è passato da dietro è andato in strada ma porca loca cosa faccio mi sieda no capito lì dentro no no lo zaino tattico c'è anche il tubetto da vuotarla fuori io ho chiamato te perché ho visto che avevi messo in tasca il telefono infatti adesso vibra ma non è nessuno di voi perché lo spampi non lo sente il telefono si sta andando in moto si grazie